Come andranno le prossime settimane con l'oroscopo acquario dicembre 2018 di Paolo Fox, i cambiamenti e le opportunità di successo del prossimo mese Anche per i nati sotto il segno dell'acquario è iniziato un periodo di interessante recupero Per tanto tempo hai dovuto fare conti con Giove dissonante, tante sono state le difficoltà, anche dal punto di vista economico-finanziario, che hai dovuto sostenere negli ultimi anni Il tuo entusiasmo nel creare sempre qualcosa di nuovo e di stimolante ti ha aiutato a superare anche momenti di crisi Anche perché sei un segno forte e che riesce a farsi scivolare le cose di dosso e a ripartire da zero in qualsiasi momento La fatica che hai dovuto sostenere negli ultimi mesi potrà essere messa da parte Per l'oroscopo acquario a dicembre 2018 può approfittare di qualche piccolo colpo di fortuna Possono esserci proposte interessanti che fino a poco tempo fa ti sembravano impensabili Certo è che un segno confusionario come il tuo potrebbe fare fatica a riemergere nell'immediato Hai bisogno di tempo per sistemarti, per prendere consapevolezza della tua nuova condizione prima di poter ripartire e metterti in gioco in un nuovo contesto Questa fase di transizione però può essere superata con successo. Se al tuo fianco hai segno di terra veloce e pragmatico come toro, capricorno o vergine, allora sarà molto più facile riuscire ad andare avanti Le coppie che hanno superato una crisi negli ultimi mesi, hanno voglia di ricominciare Il grafico segnala un buon recupero per i sentimenti. Si è discusso in passato per la gestione della vita quotidiana Andare avanti con nuovi ritmi e con nuove consapevolezze accende anche l'entusiasmo e la tua curiosità nei confronti del futuro Proprio per questo motivo, se un ex prova a rifarsi vivo, sarà il caso di valutare bene se vale la pena di vivere emozioni che già una volta hai deciso di allontanare dalla tua vita Oroscopo Acquario dicembre 2018 di Paolo Fox, Cambiamenti in amore, studio e lavoro Dal punto di vista lavorativo ora sembrano esserci novità interessanti che ti consentiranno di poter approfittare di una maggiore stabilità Per molti mesi hai dovuto fare i conti con una condizione precaria. Sei stato su cube degli eventi, e nonostante gli sforzi, i risultati difficilmente erano all'altezza delle tue aspettative Adesso è arrivato il momento di voltare pagina. È inutile insistere con progetti che fanno fatica a decollare, e che nonostante il tuo impegno, non ti hanno ancora portato i risultati sperati Non sottovalutare le novità, è iniziato un nuovo periodo della tua vita che potrebbe anche implicare il desiderio di fare un nuovo lavoro o di mettersi in gioco in un nuovo contesto Per l'oroscopo acquario a dicembre 2018, saranno poche le novità che anche durante il prossimo anno ti consentiranno di ritrovare quel desiderio di vincere che ti rendono più sicuro di te Per il momento però si va avanti a fatica, e soprattutto i single potrebbero avere bisogno ancora di tempo prima di riscoprire il desiderio di amare Si tratta però di una condizione momentanea, che già nei primi mesi del 2019 potrebbe capovolgersi Vanno avanti bene le storie di lunga data, quelle che ti consentono di poterti concentrare anche sull'amore e sullo studio Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like